I carabinieri della compagnia di Lercara Fritti hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti di persone ritenute a vario dito responsabili di dare istruzione ai danni di un amministratore pubblico, minaccia aggravata ai danni di un pubblico ufficiale, ricettazione, detenzione illegale di arma da sparo, tutti i reati commessi con l'aggravante del metodo mafioso.